Il Vallo di Diano è individuato come area strategica per velocizzare i tempi di percorrenza ferroviaria da Roma a Reggio Calabria, tanto che Rete Ferrovie Italiane ha deciso di puntare sulla realizzazione di una tratta ex novo, ritenendolo anche strategico per il potenziamento anche di altri collegamenti. Lo scorso 3 febbraio si è tenuta l'audizione dei vertici e dei commissari di Rete Ferrovie Italiane per la presentazione alle commissioni riunite di ambiente e trasporti dei progetti predisposti per la programmazione per un miglioramento infrastrutturale del territorio italiano. Si tratta di un'ipotesi ma che potrebbe davvero vedere la luce date anche le motivazioni adotte dalla nuova amministratrice delegata e direttrice generale di RFI Vera Fiorani, che è anche il commissario per la realizzazione dell'opera sul tratto Salerno-Reggio Calabria. Nel corso dell'audizione il progetto è stato tra i primi ad essere illustrato dalla direttrice generale Fiorani, che ne ha anche saltato le funzioni e l'importanza. Entro fine febbraio dovrebbe essere pronto lo studio tecnico-economico del progetto che dovrebbe definire il costo dell'opera, che pare potrebbe aggirarsi intorno ai 9 miliardi e 800 milioni, ed ha anche la definizione di come proseguire nel progetto di realizzazione e nella programmazione degli interventi. Secondo quanto illustrato dalla dottoressa Fiorani, il progetto, la cui definizione è prevista per fine anno, dovrebbe essere suddiviso in tre lotti, Salerno-Battipaglia, Battipaglia-Praia, che attraversa il Vallo di Diano, ed infine la nuova Galleria Santo Marco. Di particolare interesse è proprio il tratto centrale, che riguarda anche il Vallo di Diano, individuato come strategico, in quanto sul tratto di strada ferrata vengono anche previsti collegamenti con altri progetti inseriti nella stessa programmazione presentata nella seduta in Commissione riunita lo scorso mercoledì 3 febbraio e che dovrebbe collegare Battipaglia a Potenza e a Taranto. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione delegata di RFI, l'opera, che dovrebbe essere conclusa entro il 2026, data entro cui gli interventi devono essere chiusi tutti, come da previsione della programmazione nazionale per le infrastrutture, è fondamentale per ridurre le distanze temporali tra Roma e Reggio Calabria, che potrebbe essere percorsa in 4 ore e 15 minuti, riducendosi ulteriormente di quasi un'ora nel caso in cui vengano eliminate le fermate. È chiaro che si è solo alla fase di progettazione e di idea, ma la certezza che sia proprio RFI a voler puntare sull'attraversamento del Vallo di Diano o della tratta ferrata, ritenendo la strategica e determinante per ridurre il gap infrastrutturale del mezzogiorno e i tempi di percorrenza per attraversare l'Italia da nord a sud, trasmette un pizzico di fiducia in più.